Parliamo signori questa volta di Alex Zanardi il mitico campione di cui tutti ci ricordiamo purtroppo non soltanto per la disgrazia che ha avuto ma per tutte le serie di vittorie che ha avuto e allora Alex Zanardi è ancora un campione e lo è ancora oggi dopo le vicissitudini di una vita molto travagliata non è bastato un destino nefasto nella Formula 1 che ci ha pensato anche purtroppo l'incidente parolimpico ma lui è un leone è un leone ruggente non ha mai smesso di lottare ricordiamo raga che non è la prima volta che in un certo senso si riprende da una situazione del genere lui natio di Bologna classe 1966 era appassionato di motori fin da piccolino era solito incontrarlo correre su Ingo Gart in previsione del futuro che poi lo avrebbe atteso arrivò di dritto e filato nelle scuderie delle piste delle auto è stato veramente un talento inconfondibile Alessandro questo il suo vero nome e non sapeva che in una gara della domenica avrebbe vissuto uno dei più grandi drammi della sua vita mentre circolava a bordo dell'auto venne travolto da due colleghi che arrivavano spediti lo scontro fu talmente rimbombante che gli spezzò le gambe così infatti come lo conosciamo attualmente nonostante le gravi condizioni riportate Zanardi era ancora vivo la famiglia sempre accanto a lui e l'incoraggiamento degli ammiratori che non mancava Alex era sopravvissuto e gli aspettava un periodo di convalescenza molto pesante era riuscito a ristabilirsi ma ecco che il fato ha voluto di nuovo mettersi alla prova nel 2020 Alex partecipa alle competizioni di handbike si sente realizzato, si sente felice e quindi non perde un allenamento non perde occasione per potersi rimettere in gioco all'improvviso viene travolto da un camion che riduce a pezzi la bicicletta che montava la corsa disperata in ospedale è un forte trauma cranico Zanardi quindi è riuscito a sopravvivere anche questa volta io questo lo sottolineerei l'aiuto degli amici e della famiglia non verrà mai meno esattamente come la prima volta circa un anno fa è tornato a casa dove continua ancora le cure e le varie riabilitazioni i progressi avanzano un passo per volta ma sono costanti il totale recupero arriverà a tempo dovuto e lo ha già dimostrato altre volte Alex signori si avvale di un centro iperbarico a Ravenna con ottimi risultati a questo punto la moglie Daniela tiene a sottolineare infatti dice che ora stiamo con Alex tutto il giorno lui è nel suo ambiente familiare quindi può tornare un minimo alla normalità questo gli dà ulteriore forza siamo molto grati al personale medico delle cliniche in cui è stato curato e noi signori ci auguriamo che vada sempre meglio che ci siano sempre più miglioramenti e poi magari avremo delle buone notizie spero che sia così nel frattempo questo è tutto per questa notizia vi ringrazio per l'ascolto e alla prossima